Tip è top ragazzi, oggi siamo qua con un nuovo video, oggi prima di tutto di iniziare con questo video ci tenevo a ringraziare tantissimo una persona del gruppo Nel tuo gruppo si chiama IlBed, lo ringrazio infinitamente perché avremmo un po' di video e se avremmo questi video è solo grazie a lui Il discorso che vi facevo due o tre video fa, adesso non mi ricordo più quando, quando vi dicevo per l'appunto che mi faceva piacere se qualcuno, sai, mandava un prodotto Io non avevo chiesto mai niente, al che IlBed già si era proposto, mi aveva inviato degli ottimizzatori che andremo a testare nei prossimi video Cosa ha fatto? Il suo pugno, comunque sia, è una persona generosissima, ha preso e mi ha inviato l'inverter Lui ricordiamo che è un Growat, il suo progetto è un grande progetto su ampia scala Per quanto riguarda sia sui pannelli che li sta mettendo in verticale Comunque chi è dentro nel gruppo da tanto tempo ha visto quello che sta facendo Poi per varie vicissitudini sta andando avanti un po' in rilento Quindi lui avendo più di un inverter mi ha spedito il suo inverter In questo caso poi lo andremo a vedere Oggi lo andiamo a spacchettare e poi nei prossimi video lo andremo a testare Lo metterò a posto nel mio day, comunque sia farò tipo come un banco di prova Allestirò un banco di prova, dopodiché andrò soltanto a switchare le stringhe E collegarli sotto la batteria, comunque sia stressarlo Vediamo un po', non stressarlo nel senso, vedere fin dove arriva Come si presta in questo caso BMS JK E come comunque sia si presta con la comunicazione E andremo a testarlo, insomma, andiamo a vedere questo prodotto che è molto interessante Detto questo, non mi divulgo più di quel tanto Vi faccio vedere appunto quello che mi ha spedito Ti ringrazio ancora infinitivamente caro Eccoci qua ragazzi, ora innanzitutto Andiamo a vedere i chili Misure Dopodiché qua andiamo a vedere nel dettaglio Growat PV Off-Grid Inverter Qui il modello che è l'SPF 6000 S Plus Solar Charge Mode 500, ricordi il range dell'MPT Comunque si può accettare fino a 500 Il range è, per l'appunto, 120-450 Due stringhe Accetta 16 più 16 di stringhe Ok, fio massimo di 16 A Max Charge Current 100 A E poi qua abbiamo tutto quello che vi viene dietro, no? Tutto quello che troviamo anche La maggior parte dei blasonati inverter Comunque si troviamo tutte queste caratteristiche Ora andiamo a spacchettarlo Vediamo com'è fatto E' davvero un prodotto molto interessante Allora Faccio in diretta con voi Soprattutto con queste scintillanti Cazzettine ancora Pre-natalizie Eccoci qua Ok Qui abbiamo Manualetto Antennino Comunque si è sempre manuale dell'inverter Dall'antennino Adesso andiamo a Tirarlo fuori Cioè a scoperchiare Il primo pezzettino Ok Mazzarola Piccolino ma Già subito di primo acchitto mi piace Adesso Mi porto qua con me E lo vediamo Allora Come possiamo vedere Come vi dicevo prima, no? Cioè Di primo acchitto Guardandolo Può fare veramente bellino Non me lo aspettavo così piccolo Comunque Qui abbiamo Cavetteri varie Questo io penso che sia per il parallelo Un po' come era con il Voltronic Simile A Voltronic Sì Cavo USB E il kit Per il parallelo Insomma Qui abbiamo Come la maggior parte dell'inverter Ci danno un primo kit Per il collegamento delle stringhe Questo qua è un antennino Ci danno anche in più Guardate Insomma un pelino I puntali Cosa che Poi andremo a vedere Perché ci allegano dentro I puntali Ok Adesso andiamo a tirare fuori Lo mettiamo sul banco Vediamo Ok L'abbiamo scartato Come possiamo vedere Qui abbiamo Le string Mppt1 2 Ac Input Gen AC Output Ok Quindi qua Entriamo con la 220 Qui usciamo Con quella che può essere Anche il load Del day Adesso io faccio il confronto con loro E comunque sia anche questo A quanto pare Poi vedremo bene Accetta un ingresso gen Ok Qui abbiamo Il Caricatore DC input Tasto d'accensione On Off Le due ventoline Ciao Comunque sono penso Ventolo da 90 Una bella generosa E qui sotto Al fine abbiamo La carrellata di porte Porta RS485 Porta BMS Porta Che penso Parallelo in Parallelo out Quello che dicevamo prima Quello che abbiamo visto prima E poi questo Io penso proprio che sia Current sharing E quello appunto anche per il parallelo Questo Penso che ci sarà dentro Anche una sorta Di contatto pulito a burlo Che ci permette di pilotare Per appunto Teleruttori e robe varie Come abbiamo visto anche In Nevoltronic Ok Adesso lo andiamo a aprire Andiamo a vedere Ma sto dicendo Lo andiamo a aprire Sì Perché poi questo Si aprirà sicuramente Per fare i collegamenti dentro E quindi Lo andiamo a aprire E vediamo Comunque questo è l'inverter È veramente Me lo aspettavo più grande Sinceramente Molto più grande Me lo aspettavo E comunque Si è esteticamente Comunque si è pesicchia Pesicchia sì Sono rimasto già Piacevamente colpito Ottimo Ottimo Eccoci qua Allora andiamo a smontare Le Viti Presenti qua Una di lato Una Due davanti E un'altra di lato Fatto questo Però prima di Andare a smontare Voglio farvi vedere Che lateralmente Ha Il parapolvere Uno Due Ok Adesso andiamo a smontare Appoggiamo Come possiamo vedere Subito qua Davanti Vediamo la morsettiera Morsettiera Che ci riporta Quello che Già c'è scritto davanti Ovvero AC input Gen AC output Quindi come dicevamo prima Qui entriamo con la Due trenta normale Engel Qui Entriamo col gen E qui Usciamo Ok Qui abbiamo la presenza Della terra Qua no Quindi qui abbiamo Terra fase neutro Fase neutro Fase neutro Ok Quindi molto probabilmente Già mi viene da pensare Che presenta La bifase Però Magari Magari mi sbaglio Appunto Magari c'è già dentro Di suo Un qualcosa Che mette In neutro terra Poi vediamo Qui dentro Possiamo Scorgere Qualche dettaglio Dell'inverter Stesso Vediamo Dissipatori Condensatori Vediamo di qua Toro Delissimo Travede Comunque Sembra ben fatto Poi qua Ovviamente Vediamo le due ventole Per raffreddare Caricatore Ottimo Ottimo Vediamo Vediamo Qui possiamo notare Che Tutte le alette Per dissipare Il calore Quindi anche questa Ottima cosa Quindi le ventole Fanno entrare Il calore Scusate L'aria Espellono Sì nei lati Che poi Quando noi andiamo A attaccare Tramite questi Questa staffa Sui buchi Al muro Grazie a questo Telaietto Comunque sia Rimane Distante dal muro E quindi qua Permette la fuoriuscita Dell'aria Cosa Molto Buona Qui abbiamo Il sigillo Di sicurezza Come possiamo notare Se noi Dovessimo In qualche caso Andare a rimuovere Questa paratia Il sigillo Si romperebbe Comunque Questi sono quelli Che se vengono via Lasciano sotto Un sigillo Di garanzia Appunto Quindi qua Vediamo C'è il sigillo Di garanzia Cosa Che vediamo Ormai Sulla maggior parte Di inverter Allora ragazzi Mi sono accorto Che quello Che vi dicevo Prima Che magari È un'antenna Wi-Fi Non è un'antenna Wi-Fi Bensì La cover Del caricatore Che abbiamo visto Prima Quindi My fault Scusate Volevo farlo Anche vedere Questo Ci danno Già gli occhielli Per collegare Al caricabatterie Quindi qua In questo sacchettino Non troviamo Tutto Non dobbiamo andare A comprare Niente Questo È il dongle Wi-Fi Ok Quindi ci danno Dentro E USB Quindi Per l'appunto Ci danno Dentro Tutto Quanto Andremo A vedere Tutto Quindi Dicevo Abbiamo visto L'inverter Nesso insieme Qui comunque Sia Una rapida Occhiata L'abbiamo Dato Un primo Sguardo Poi Andremo Appunto A mettere Sul banco Di prova Lo testeremo E poi Vi dirò Appunto Se è un ottimo Se è un buon prodotto O meno Senza filtri Ok Ovviamente Attenendoci A quello che è La sua fascia Di mercato Ok Perché andare A paragonarlo Magari a un Deio O comunque sia A un'altra macchina Che non è nel suo ramo Questo diciamo Che secondo me Si può paragonare Tranquillamente A un Voltron Perché è la sua Categoria Categoria degli off-grid Ok Quindi andremo A fare questo Metodo di giudizio Infine vi lascio La clip Una clip A sorpresa Di quello che Mi è successo Appunto Durante L'assemblaggio Di una batteria Quindi ragazzi State sempre attenti Perché è un attimo Detto questo Ci vediamo al prossimo video Vi ringrazio Se mi avete seguito Fino a qua Ringrazio Infinitivamente Anche Infinitivamente Il bad Ti ringrazio tantissimo Magari ce ne fossero Di gente come lui E cos'è che mi fa pensare Mi fa pensare appunto Che una persona Un privato Come possiamo essere Tutti noi Prende Spedisce il pacco Me lo fa arrivare qui Me lo mette a disposizione Mette a disposizione Un suo prodotto Di tasca sua Per il canale Per il bene del canale Per il bene di tutti noi E di tutto il gruppo Telegram Comunque se ci porta Dei contenuti Lui ci sta appunto Di tasca sua Ci sta rimettendo Mentre i venditori Non se ne è fatto avanti Neanche mezzo Dopo quel video lì Io pensavo che qualcosa usciva Non è uscito niente Quindi io dopo questo video Penso Che Prima del tempo Farò la mia piazza pulita Ciao belli Grazie